Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ho deciso di fare un video su come rimuovere l'odore della cipolla dalle mani o dai capelli perché spesso io lo spiego già nei video stessi piuttosto che nelle descrizioni di video anche il succo di limone per esempio per togliere l'odore. Infatti mi sembra un po' impossibile che ci sia gente che abbia problemi con la cipolla o che dica che è complicato perché in realtà esattamente come quando fai lo shampoo poi metti il balsamo, lascia agire poi dopo la di capelli anche col succo di cipolla utilizzi il succo di limone, ovviamente non vi esponete al sole quando usate il limone lascia agire un po' poi il labio, il bicarbonato, la menta, sulle mani basta acqua e sapone ma è come usare un balsamo, non mi sembra nulla di così tanto complicato sì quando tagli la cipolla ovviamente senti l'odore della cipolla ma è nella stanza ma quando l'applichi sui capelli essendo che l'applichi così com'è e poi che comunque in generale ci sono questi rimedi non ci dovrebbero essere problemi allora uno sicuramente è il succo di limone come spiegavo prima il succo di limone sui capelli a me piace tantissimo l'unico accorgimento che vi prego di tenere presente è che uno potrebbe schiarire i capelli e due potrebbe non esponetevi al sole se avete usato il limone soprattutto senza cappellino, senza protezione, non esponetevi per il resto io utilizzo un po' come si fa con gli impacchi faccio il succo di cipolla, lavo bene con lo shampoo logicamente faccio il balsamo, applico il succo di limone, aspetto 10-20 minuti l'applichi capelli, sono pronta, esco e nessuno mi ha fatto notare che puzzo di cipolla anzi spesso mi dicono anche che so del mio shampoo o del mio balsamo e quindi non mi sono mai posta il problema al massimo avrete una sensazione aggumata addosso che non c'è nulla di male a sapere di limone ma comunque non ho mai riscontrato questa problematica né anche chiedendo a mia sorella che è molto sincera con me perché non ha problemi mi è stato fatto notare di puzzare di cipolla questo è uno la menta, la menta è diciamo una delle cose con il giardino che più mi piace e quando ha la menta, se è fresca, se è secca, mi piace utilizzarla anche qui per tantissimi rimedi, tra cui anche per appunto fare una eruzione post succo di cipolla acqua e menta, in poche parole, e andate ad applicarla anche la menta è fenomenale potete farlo anche con il rosmarino, oppure con tutte e due menta e rosmarino andate a prendere un recipiente e mettete dentro il rosmarino tra l'altro il rosmarino e la menta, ma soprattutto il rosmarino principalmente sapete che l'acqua di rosmarino io la utilizzo anche contro la caduta dei capelli quindi è una cosa in più anche acqua e rosmarino fate bollire 5 minuti fate ovviamente raffreddare almeno 15 ore mi raccomando fate raffreddare in questo modo se lasciate anche appunto dentro il rosmarino secondo me è anche ottimo perché rimane l'odore lasciate agire e poi sciacquate che altro c'è un bicarbonato ma comunque se usate questi tre rimedi io non credo che ci saranno problemi di odori poi ripeto tutti siamo diversi però la cosa che mi sembra più strana di tutto è che io i miei capelli finiti che assorbono tutto infatti io sembro sempre una pecorella perché ho questi capelli che assorbono veramente la qualsiasi non si sente su di me? non credo che si senta su un capello spesso che non assorbe niente però io vi do i miei rimedi quindi io vi dico io faccio così se vi convince fatelo se non vi convince non fatelo ci sono tantissimi altri rimedi per far crescere i capelli è tutto, un bacione noi ci vediamo nel prossimo video ciao